Eccoci qua, allora è cominciato il campionato, io questa mattina avevo chiesto una stagione emozionante da parte dei nostri ragazzi, non mi sarei mai aspettato dopo un paio di minuti vedere Becao segnare gol. A questo punto io credo che valga la pena pensare di acquistare Rodrigo Becao da qui alla fine del mercato, così ci togliamo il pensiero. Al di là delle battute, credo che questa sera la parola d'ordine per noi tifosi del Milan debba essere indulgenza, nel senso che al di là di tutto siamo riusciti a raddrizzare una partita che insomma non dico si fosse messa male perché prendere un gol dopo un paio di minuti è una cosa assolutamente gestibile. Però indubbiamente c'è stato anche il gol alla fine del primo tempo che avrebbe potuto crearci qualche noia. In realtà credo che la squadra abbia fatto nel complesso una discreta partita che abbia avuto dei momenti molto intensi soprattutto nel primo tempo dal punto di vista di condizione mostrando una buona condizione per l'approccio alla partita. Sicuramente le distrazioni difensive sono da cancellare quanto prima, cioè non possiamo più permetterci di prendere gol così da calcio d'angolo come occasione del vantaggio di Becao. Non possiamo permetterci di essere così leggeri nelle marcature come in occasione del gol di Masina, però è anche vero che queste distrazioni io le leggo un po' all'avvio di stagione, quindi magari a determinate condizioni, al caldo, al momento, tutto quanto. Credo che poi col passare del tempo la nostra solidità difensiva ritornerà e ritorneremo a vedere anche in quel comparto un Milan molto efficace. In realtà poi nel resto della squadra io ho visto anche delle belle cose, delle belle giocate soprattutto nel primo tempo e soprattutto dal lato destro, ho visto un Calabria molto pimpante che ha messo anche dei bei cross, ha messo l'assist per Rebic, ma prima si era anche procurato il calcio di rigore del pari. È stato importante in una partita così con un avversario, diciamo tendente ovviamente come avevamo previsto, a chiudersi e a ripartire, riuscire a trovare subito il pareggio. Ed è stato anche importante riuscire a fare quell'altra cosa che ci eravamo detti oggi, cioè il fatto di, come dire, scardinarli un po' sugli esterni e sul lato destro l'abbiamo fatto bene, riuscendo spesso ad avere la superiorità numerica. Sul lato sinistro siamo andati meno bene per quel che riguarda Leao, Teo invece secondo me ha fatto una buona partita anche da un punto di vista difensivo, ha fatto un paio di chiusure molto molto apprezzabili. Leao questa sera è stato un po' evanescente, anche in alcuni momenti un po' fastidioso, ha cercato secondo me un pochino di strafare in questa prima partita, anche in questo caso. Ci può stare perché in fin dei conti era la prima gara, in casa, insomma tanti motivi che possono aver portato a un Leao un po' arruffone. Chiaramente non dovrà permettersi questo tipo di partite già da domenica prossima. Leao che oltretutto anche in occasione, ad esempio, del gol del 2-2 è stato un po' morbido per quel che riguarda l'aiuto alla fase difensiva. C'è stata un'altra situazione nel secondo tempo con Deulofeu che per fortuna non ha tirato al volo, dove anche lì, diciamo, Leao se l'è un po' perso. E quindi, ecco, questa è stata probabilmente la sola nota, diciamo, un po' negativa del Milan insieme al discorso della fase difensiva. Per il resto è chiaro che in alcuni momenti della gara, soprattutto nei momenti, diciamo, dove ci siamo un po' calmati dal punto di vista del ritmo, abbiamo gestito il pallone, non l'abbiamo fatto sempre benissimo, anche perché sappiamo che, insomma, noi siamo una squadra che per la nostra natura, per il nostro modo di giocare deve accelerare, cioè deve fare le cose velocemente. Tant'è che nel finale di partita abbiamo avuto anche un paio di contropiedi che potevano essere gestiti meglio. Insomma, il Milan è quello. Chiaramente per avere quel Milan o deve avere Undiciteo Hernandez che al 94esimo scatta e si fa tutto il campo, oppure bisogna avere appunto un po' di pazienza, un po' di indulgenza rispetto a questa squadra, che comunque è una squadra, campione d'Italia, che inizia il campionato vincendo 4-2. Con quella parte relativa alla difesa, che ovviamente sistemeremo, ma per il resto, insomma, la squadra ha dimostrato di essere una squadra già pronta, anche da un punto di vista mentale, nella gestione di queste partite. Devo dire che poi abbiamo visto gli esordi dei nuovi giocatori, insomma abbiamo visto qualche cosina di interessante, anche da parte dei chettelari, abbiamo visto uno Righi che comunque pare in buona condizione, quest'anno abbiamo delle alternative, non abbiamo visto Adelì questa sera, e pare che Milan abbia delle alternative, soprattutto se poi sulla tre quarti si verificherà il fenomeno dell'anno scorso, nel senso che Brandias anche quest'anno è partito benissimo, perché ha fatto molto meglio oggi di tutto il precampionato, ha giocato una buonissima partita nel primo tempo, con idee, con ritmo, con anche quella cosa che gli si imputa spesso, cioè il fatto di non giocare rapidamente il pallone. Questa sera l'ha fatto, speriamo ovviamente, al di là del fatto che adesso siamo coperti sulla tre quarti, ma quello che ci dobbiamo augurare per l'arco di una stagione particolare è che Brandias possa essere una risorsa per il Milan, quindi possa essere un protagonista, ma con più costanza. La stessa cosa vale per Ante Rebic, giocatore del quale abbiamo parlato tantissimo quest'estate, e che questa sera ha ripagato le nostre chiacchiere con due gol, ma anche in generale con una prestazione molto convincente, una prestazione adatta anche a fare quel lavoro di movimento per scompaginare un po' la difesa dell'Udinese. Certo, sono mancati, ad esempio, gli inserimenti dei centrocampisti. Krunic l'ho trovato molto attento in fase difensiva, molto meno preciso in fase di impostazione, alcune scelte sbagliate, molto meglio da questo punto di vista del Benasser. Diciamo che in alcuni momenti si è avuta l'idea di una squadra un pochino slegata. È chiaro che questo probabilmente dipende anche dalla condizione, che non può essere ovviamente ottimale già in questa fase della stagione, e meno male anche perché, insomma, se fossimo adesso già al top, vorrebbe dire che dovremmo cominciare a preoccuparci per dopo. Credo che comunque abbiamo avuto segnali confortanti per la stagione, abbiamo già dato un segnale al campionato, perché, insomma, tutto sommato una squadra di personalità, una squadra forte, con un potenziale offensivo strepitoso, con queste cose in difesa che non si dovranno più vedere, perché, ovviamente, voglio dire, leggerezze così come sul primo gol, dove c'è stata una non marcatura su Becao, e sul secondo, dove c'è stata un po' una dormita di Junior Messias, non vanno bene, non si dovranno più vedere, perché oggi ti va bene, un'altra volta non si sa, nonostante, ripeto, tutte le attenuanti del caso e tutta l'indulgenza che dobbiamo portare. Credo di aver detto tutto, io adesso aspetto i vostri commenti, devo dire che esco soddisfatto da questa serata, per quel che riguarda il risultato, per quel che riguarda l'atteggiamento, per quel che riguarda, ripeto, anche la condizione, comunque nel complesso, mi riservo di tenere d'occhio molto certi cali di concentrazione nella fase difensiva, chiaramente poi, ad esempio, quest'oggi, insomma, Tonali, la mancanza di Tonali si è sentita, cioè, per quanto, ripeto, Krunic, in fase di non possesso, secondo me, abbia fatto una discreta partita, ma è mancato un giocatore che desse, come dire, consistenza a tutto tondo nel nostro reparto mediano. Anche questo legato a tutto il discorso che ho appena fatto, cioè il discorso condizione, il discorso prima partita, il discorso caldo, il discorso agosto, il discorso anche probabilmente preparazione fatta in un certo modo per questa stagione che sarà irregolare, eccetera, eccetera, eccetera. Per tutti questi motivi. Indulgenza, questa sera, ci portiamo a casa un 4-2, andiamo a vedere l'Inter, ma, insomma, credo che siamo partiti col piede giusto, e questa è una bella cosa perché partire con tre punti con un avversario che, ricordiamo, c'era la scorsa stagione, stagione dello scudetto, dove non siamo riusciti a battere né a casa nostra e nemmeno a casa loro. Quindi già abbiamo fatto, come dire, meglio da questo punto di vista rispetto all'anno scorso. Aspetto i vostri commenti e vi auguro una buona serata.